firma firma i vietcong che vanno a pulire il fiume in moto ci passi in moto ci passi ma anche lì ci passi a piedi non è alta bravo bravo figaro va che basta anche qua o porca loca l'azionata così qua ma i pesi piena di pesciolini anche qua ma cosa ce n'è dentro basta arda non va questa è alta occhio è no si dovrebbe rompere non si è rotta neanche dove l'ho tagliata figurati ma stardo e chi cazzo vada io capisco ma questo lo prendi con le corna lo prendi guarda che no guarda che c'è dentro il seghetto se ci mettiamo un secondo è dentro in mezzo centrale nella tocca grande è pieno di pesciolini quella la erano più grossi se sono già evoluti trovato? taglialo lì sotto dove sta tagliando intanto che lui picchia tu taglia sotto proprio dalla come sei due sei è perfetto e intanto io frank vi taglio di qua ma va il movimento è sempre quello veloce veloce mi sembra che fai fatica non va questo qua sulla roba secca fa fatica vedi questo è più secco e non rimbalza e basta però eh tira e basta non ti si rompe per forte eh che cavolo vieni indietro beh traina traina dovrebbe essere piatto fino a quando arrivi le piscine dovrebbe essere piatto fino a dopo c'è un muretto mi ricordo si proprio avanti c'è proprio una roba di acqua da terra piana se non arrivi le piscine c'è più niente un po' sulla riva beh fino a qua non è già male ok piuttosto che niente altra vasca esagerata e si bisogna arrivare su fino a fino a in cima bisogna arrivare fino a in cima a 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 si si ma qua qua vedrai quando arriva l'acqua manettone